Oroscopo del giorno, martedì 4 agosto 2020 A rete Amore, oggi probabilmente diverse cose non vi andranno bene, inclusi alcuni dettagli della vostra relazione e il comportamento del vostro partner. Per fortuna l'energia di questa giornata vi aiuterà. Lavoro E l'energia non mancherà nemmeno sul posto di lavoro, attenzione a non sprecarla. Toro Amore Questa sarà una giornata speciale da trascorrere al fianco della persona amata. Sentirete la complicità ancora più forte del solito, vi capirete al volo. Potrete godervi a pieno sentimenti ed emozioni insieme al partner. Lavoro Forse sarete troppo concentrati sulle faccende di cuore per dedicarvi al lavoro, ma oggi sarete affidabili e determinati. Gemelli Amore È possibile che chi è al vostro fianco non stia passando un periodo molto semplice, questo non vi abbatterà. Sarete molto bravi a reagire e a riportare anche quel giusto equilibrio all'interno del rapporto di coppia. Lavoro La giornata sarà piuttosto positiva. Vi sentirete tranquilli e agirete indisturbati nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro Amore Questo martedì sarà decisamente interessante perché riuscirete a conciliare gli impegni amorosi con quelli lavorativi, creando un buon equilibrio. Questo vi farà stare bene e vi permetterà di godervi le emozioni con il partner senza ulteriori problemi. Lavoro Gli impegni non mancheranno, ma sarete molto bravi ad organizzarvi per gestirli al meglio. Attenzione all'agitazione Leone Amore Questa giornata di agosto sarà abbastanza serena. Chi è impegnato in un rapporto di coppia potrà contare su un bel clima per i sentimenti e le emozioni. Tutto dovrebbe andare per il meglio, insomma. Lavoro Il dovere vi chiamerà pure oggi, ma voi sarete bravi a rispondere tanto da creare un buon bilanciamento tra il lavoro e la vita privata. Vergine Amore Per oggi non sono previste delle grandi novità sul fronte dei sentimenti. Voi nati sotto questo segno dovrete comunque riuscire a gestire il rapporto di coppia e il partner che potrebbe avere qualche momento no. Lavoro Sarà davvero fondamentale tenere d'occhio i propri sogni e i propri progetti per il futuro. Bilancia Amore Oggi potrete mostrare il vostro lato migliore al vostro partner, ma di contro ci saranno pure dubbi e pensieri che non vi lasceranno del tutto sereni. Nonostante ciò le stelle saranno dalla vostra parte e vi sosterranno. Lavoro Probabilmente non vi sentite ancora del tutto sicuri. Un po' di disorientamento ci sta. Le cose andranno meglio. Scorpione Amore Forse chi sta al vostro fianco non riesce ad essere se stesso, non riesce a dimostrarvi l'affetto che sente nei vostri confronti. Questo non dovrà farvi arrabbiare. Voi sarete bravi a capire il motivo di questi limiti e risolvere sarà più facile. Lavoro Per questo martedì non sono previsti cambiamenti o novità particolari. Occhi aperti però ai rapporti professionali. Sagittario Amore È possibile che questa non sarà una giornata molto semplice da affrontare. Non sarete molto determinati e questo ovviamente varrà pure per i rapporti affettivi. Chi sta al vostro fianco si accorgerà dei vostri tentennamenti. Lavoro Il periodo in generale è molto buono, ma oggi le energie potrebbero essere un po' sottotono. Capricorno Amore Se siete impegnati in una relazione d'amore, è probabile che non siate del tutto soddisfatti delle vostre azioni per il rapporto di coppia. Forse potevate comunicare meglio i vostri sentimenti, dimostrare le emozioni in maniera diversa. Lavoro In questa giornata di agosto dovrete prestare attenzione alla gestione di impegni e progetti. Acquario Amore Oggi avrete la luna nel segno e sarà lei a rendere questa giornata ancora più positiva. Sarete perfettamente in grado di mettere in equilibrio tutti gli impegni che riguardano la relazione di coppia con i progetti professionali. Lavoro In questo martedì tutto andrà per il meglio. Le energie saranno al massimo e potrete metterle in pratica. Pesci Amore Dovrete fare la giusta attenzione a tutto quello che non va e che non vi piace nel rapporto. Le lacune hanno senz'altro il loro bagaglio e questo potrebbe cambiare facilmente il vostro umore. Lavoro Gli impegni sono sempre tanti ma sarà importante svolgerli con serenità e tanta pazienza. Se il video ti è piaciuto mettimi video. piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.